Ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lely King TV il canale a voi dedicato collezionisti delle figurine calciatori panini non soltanto, quest'oggi ci andiamo a fare una sfida storica ragazzi, una sfida storica con le figurine queste qua di Champions of Europe dal 1955 al 2005 ragazzi bustine storiche che ormai costano tipo 2 euro a bustina o cose del genere io ve ne vado a spacchettare ben 8 andiamo a pronosticare la partita fra due squadre italiane tra Roma e Juventus quindi mi raccomando tempestate il video di like condividete il video seguitemi sugli altri social tra cui Instagram e su TikTok e io direi ragazzi di iniziare bene ragazzi metteremo sulla sinistra le figurine della Roma sulle destra quelle della Juventus le altre tutte centrali quelle più importanti le metteremo in alto io direi di iniziare ragazzi abbiamo 8 bustine facciamo 4 per primo tempo e 4 per secondo tempo iniziamo con il fischio dell'inizio del match dai ragazzi, dai ragazzi che si inizia dai che si inizia apriamo la prima bustina vediamo cosa esce fuori da queste figurine storiche ragazzi qui c'è la storia del calcio parliamo del 2005 e troviamo una figurina inerente alla finale della Champions League fra il 1998-99 mi sembra il Manchester United gli altri non so chi siano non mi sembrano Roma subito in vantaggio subito fischiamo subito dagli Roma 1-0 Christian Kivu mamma mia ragazzi che giocatore che giocatore che è uscito fuori ragazzi che giocatore Christian Kivu che poi passerà all'Inter poi non vi ricordo che in un match con la Roma si spaccò la testa portò il caschetto per molto molto tempo Christian Kivu e poi con la Roma non giocava già nell'Inter quando si spaccò la testa ecco qua Christian Kivu bene 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 che poi se non sbaglio è allenatore dell'Inter prima era non vorrei dire una stupidaggine però mi pare che Christian Kivu è allenatore attualmente dell'Inter prima era confermate o no sotto nei commenti Christian Kivu è 1-0 per la Roma che bello dagli Roma lì poi Gonzales per il Porto poi ragazzi scrivete sotto nei commenti il vostro pronostico relativo o alla squadra della Roma o alla squadra della Juventus del 2005 o dell'attuale come vi pare ragazzi scrivetelo come vi pare basta commentare è la vostra figurina preferita logicamente Lennon del Celtic uuuu ragazzi mi sto sentin male Schneider con la maglia dell'Ajax era un pischello qua era un pischello era un pischello mamma mia e andiamo avanti andiamo avanti dopo dopo sto colpo al cuore andiamo avanti chi te troviamo qua chi te troviamo qua chi è Berbatov del Bayer Leverkusen questo era forte Berbatov mettiamo qui nei top Patazzagogoglu dell'Olimpiakos vabbè uuuu 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 2-0 per la Roma non dà non dà quell'anno la Roma ha comprato non dà mi sto batte sulla fronte sto rumore che sentite e un altro giocatore che doveva essere forte un difensore che se non sbaglio l'acquista proprio dal Bayer Leverkusen non mi ricordo come si chiamava mi sfugge il nome che poi fu sempre rotto ma pure non dà era mezzo rotto non è che fece grandi cose alla Roma non dà ma che ricordi ragazzi Chris del Lione e Vaterus per la Scott per i Rangers terza bustina per primo tempo intanto già la Roma sta in cielo 2-0 Oleguer del Barcellona ma che te ridi vuoi sapere ma che te ridi Oleguer andiamo avanti Ramellov del Bayer Leverkusen Ambrosini del Milan mettiamolo tra i top dai Ambrosini ce lo potevamo mettere tra i top Ljungberg dell'Arsenal e Caristeas dell'Ajax ultima bustina fischiamo la fine del primo tempo oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia ragazzi mi sto sentindo male mi sono ribattuto un'altra volta sulla fronte Samuel Eto con la maglia del Barcellona ragazzi ma che v'ho tirato fuori da sto da sto spacchettamento mamma mia ragazzi che v'ho tirato fuori da sto spacchettamento io direi che sto video oltre ai like oltre all'iscriversi al canale mi darebbe anche qualche donazione c'è lì il cuore sotto al video potete donare anche una piccola somma se vi fa piacere se potete Samuel Eto con la maglia del Barcellona giocatore che poi giocherà nell'Inter il nostro campionato oh accorcia le distanze la Juventus Pavel Niedved un altro top player 2 a 1 Roma 2 Juventus 1 Gudjonsen del Chelsea Brown del Manchester United gli è caduta la parecchina sui capelli sulla capoccia c'è sti capelli orrendi e McManus del Celtic fischiamo la fine del primo tempo prima del primo tempo ragazzi che la partita potrebbe anche finire qui perché stiamo vincendo la Roma 2 a 1 ma non è per quello è per le figurine che abbiamo trovato vabbè Kiwu Niedved che sono quelle protagoniste ma poi abbiamo trovato Eto Ambrosini Berbatov e Schneider Schneider era un pischiello mamma mia ragazzi e andiamo con questo secondo tempo dai fischiamo questo secondo tempo secondo tempo abbia inizio abbia inizio il secondo tempo e iniziamo Ajax chi c'è stato dell'Ajax Pienar non conosco chi è Klasnick del Verde Bremen Jeffers dei Rangers Solari con la maglia dell'Inter ex giocatore anche del Real Madrid Babic dell'Everkusen siamo ancora 2 a 1 per la Roma terzo ultimo pacchetto esci fuori la mascotte del Porto la mascotte della Juventus non ho capito perché questa del Porto hanno fatto un colorito normale questa Juventus l'hanno fatto giallo cadaverico sembrano zombie questo da Juventus comunque gol della Juventus 2 a 2 con la mascotte Zidane del Verde Bremen Deco del Barcellona David Villa del Valencia ma quanti gol segnava David Villa penultimo pacchetto ragazzi siamo 2 a 2 e abbiamo Skull del Bayer Monaco poi abbiamo il trofeo poi abbiamo Guaresma con la maglia del Porto questo Guaresma qua era un ragazzino era un ragazzino manca ancora messi i peli qua Guaresma ve lo dico io e poi abbiamo Guan qua Guan ancora dovrà venire alla Roma Guan ancora dovrà venire alla Roma poi farà le fortune della Roma di Spalletti grande giocatore ragazzi Guano Juli è qui anche Juli giocatore francese dalla grande classe anche lui giocherà poi nella Roma anche lui giocherà nella Roma un paio di stagioni se sbaglio uno o due stagioni e fece anche molto bene ultimo pacchietto ragazzi che quasi mi dispiace quasi mi dispiace mi sa che ho finito questi pacchietti qua non ce l'ho più ancora Barcellona e troviamo Van Brockstors poi troviamo Beyer Ruffete Zetan del Liverpool e la mascotte del Milan questa è indiavolata però c'è sta è del Milan e c'è sta va bene ragazzi triplice fischio fischiamo fine del match 2 a 2 fra Roma e Juventus in queste figurine storiche della Champions League io vi saluto ci vediamo al prossimo video spero veramente che vi sia piaciuto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti